L'attività di progetto in Valle d'Aosta è stata seguita dall'assessorato regionale alle attività produttive direzione energia, servizio per l'attuazione del piano energetico, in collaborazione con il Politecnico di Torino, Polo Tecnologico di Verres. Una sinergia che si è allargata al territorio di Saint-Denis, luogo come detto della sperimentazione valdostana e che ha visto la Valle d'Aosta come tappa finale del progetto. Il convegno finale, iniziato a Milano il 24 ottobre, si è poi chiuso nei due giorni successivi al forte di Barth in Bassavalle. La visita che i delegati dei paesi partner hanno fatto al Polo Tecnologico di Verres e a Saint-Denis si è incentrata sulla presa a visione dell'attività pilota condotta su alcuni edifici privati e pubblici. La visita è partita dai laboratori di Meccatronica della sede di Verres del Politecnico di Torino, dove è stata presentata la logica di funzionamento del sistema Virtual Power System, sperimentato presso il villaggio alpino di Saint-Denis. La mattinata è poi proseguita a Saint-Denis, località scelta per lo studio e la realizzazione del test dimostrativo, dove è stato simulato sul sito il funzionamento del sistema e dei suoi apparati. A salutare e dare il benvenuto alla platea europea è stato l'assessore regionale alle attività produttive Egno Pastore, che ha ripercorso il progetto e i suoi significati. Alpenergy è un progetto che ha visto la luce nel 2008, quindi in effetti sono il terzo anno di lavoro su questo progetto. Oggi questa è l'occasione nella quale i partner di questo progetto, i cinque paesi partecipanti, Italia, Germania, Francia, Svizzera e Slovenia, i paesi dello spazio alpino, si incontrano per vedere come è stata organizzata la sperimentazione diretta che è stata messa in piedi sul territorio valdostano, di cosa si occupa Alpenergy e qual è l'esperienza. Alpenergy è partito da una considerazione di base abbastanza semplice, andiamo sempre di più verso lo sviluppo e l'utilizzo di fonti rinnovabili, quindi produzione energetica da fonti rinnovabili. La produzione da fonti rinnovabili però non è costante come potrebbe essere un altro tipo di produzione, ha degli alti e dei bassi, ha dei picchi in cui si produce molto, dei picchi di morbida, nei quali poi bisogna far fronte invece alle esigenze degli utilizzatori. Quindi l'idea di Alpenergy è stata quella di dire partiamo da questa produzione incostante, cerchiamo di fare in modo che ci siano dei momenti di accumulo, quindi le famiglie che hanno scelto di sperimentare questo sistema hanno in casa delle batterie che accumulano l'energia e la diffondono nel momento in cui questa viene richiesto. Ovviamente tutto questo non è sufficiente, bisogna fare in modo che tutto questo sistema venga controllato in modo intelligente, viene controllato in modo intelligente sulla base di apparecchiature elettroniche, a partire da dei computer, da dei dati di trasmissione abbastanza complessi, di modo che l'utente può vedere qual è il suo picco di consumo e quali sono i momenti in cui non consuma. Gli viene sostanzialmente suggerito di utilizzare l'energia elettrica per dei bisogni che possono essere ad esempio rimandati e non immediati, l'uso della lavatrice e cose di questo genere, in momenti in cui l'energia è disponibile, utilizzarla o utilizzarla meno o in modo più intelligente in altri. Tutto questo è detto così in modo banale, ma in buona sostanza attorno a questo progetto si sviluppa la grande idea che stanno seguendo tutti i grandi gruppi europei, in particolare Enel è impegnata in un progetto europeo e capofila, mi sembra, di grandi dimensioni, che è quello dello sviluppo delle reti intelligenti, cioè assorbire i consumi soprattutto da rinnovabili, che sono uno dei grandi obiettivi dell'Unione Europea, e sapere utilizzare poi questa energia in un modo appropriato senza che ci siano degli accumuli inutili o delle richieste troppo elevate che sono poi quelle che mettono in crisi il sistema. Con il progetto europeo Alpenergy, finanziato dal programma Spazio Alpino 2007-2013, l'assessorato regionale alle attività produttive, direzione energia, servizio per l'attuazione del piano energetico, intende contribuire alla diffusione sul territorio valdostano di un nuovo concetto di gestione dell'energia elettrica, che possa far risparmiare i consumatori e migliorare l'efficienza della distribuzione.